ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo una leggenda parla dell'ombra della morte un'ombra che appare a determinate persone come preavviso che prima o poi sarebbero morte il filmato che sto per mostrarvi è stato catturato da una telecamera di sicurezza il video mostra un uomo mentre percorre questa piccola strada ad un certo punto un'ombra sinistra appare alle sue spalle lo stesso uomo il giorno dopo sarà coinvolto in un incidente e morirà filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento durante una registrazione fatta in una strada un'ombra sinistra appare all'improvviso l'ombra si dirige verso questo bambino e dalla registrazione si può notare anche la reazione del piccolo che non sembra essere affatto spaventato ma al contrario sembra che conosca bene quell'ombra osservate bene la reazione del bambino a rallentature un uomo di nome angel velasquez ha scattato questa fotografia l'uomo dichiara di essere perseguitato da uno spirito maligno secondo angel lo spirito si materializzerebbe proprio davanti a lui urlandoli in faccia e picchiandolo un giorno l'uomo si sente osservato da qualcosa o qualcuno mentre si guarda allo specchio a questo punto decide di scattare questa foto e questo è ciò che è rimasto impresso sulla foto questo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza installata in un edificio durante una ristrutturazione il filmato mostra l'apparizione di un'ombra sinistra che appare all'improvviso sul muro di una stanza il filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento il filmato è un'ombra sinistra che è successivo il filmato è stato un'ombra sinistra che è sorinta ogni grazie a tutti abbiamo più volte Grazie a tutti. Grazie a tutti. In una delle ultime scale, un'ombra oscura appare davanti alla ragazza. Dal filmato si può notare che l'ombra tenta di aggredire la ragazza. La ragazza, come vede l'ombra, si gira e fugge via. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. L'ultimo filmato è stato catturato in un cimitero degli Stati Uniti d'America. Il video mostra l'apparizione di uno spirito che si materializza proprio nel cimitero, spostandosi in modo molto lento per poi svanire nel nulla. La cosa che mi ha spaventato di più di questo filmato è il movimento della telecamera. Comunque, andiamo a guardare il documento. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao!